Questa è una riforma complessiva che parte dalle pompe funebri, dalla seppellitura e dal calmiere del trasporto pubblico, ma parte dal presupposto di imprimere la piena legalità e la titolarità del Comune su tutti i cimiteri 12 e su tutte le aree del Comune di Napoli, con presupposti di legge ormai consolidate. Da ciò ne deriva minori tariffe per i cittadini, ne derivano possibilità di avvalirsi del trasporto pubblico, impossibilità alla compravendita, derivano proventi per l'amministrazione comunale, deriva certezza delle regole anche nei momenti più difficili, ad esempio quelli della seppellitura. Noi quindi per la prima volta ci stiamo avvalendo, dopo 170 anni, delle leggi e abbiamo fatto scaturire provvedimenti che nel loro insieme distruggono tutta quella percezione negativa, a quegli avvenimenti fortemente negativi che si immaginano legati ai cimiteri, al ciclo delle seppelliture, in più la cremazione a breve e quindi basta che i nostri cittadini debbano andare fuori comune, addirittura fuori province. Una vera rivoluzione è quella che sta avvenendo in materia di cimiteri a Napoli. Basta elencare alcuni aspetti della riforma, principi che dovrebbero sembrare normali ma che fino ad oggi non erano stati assicurati. Per i funerali finalmente si potrà scegliere fra pubblico e privato. Ad aprile partirà il forno crematorio. I manufatti si compreranno al giusto prezzo stabilito soltanto dal comune di Napoli, mentre vengono sequestrati quelli compravenduti illegalmente. Si pagheranno di meno le tariffe ed il comune le riscuoterà. Si avrà diritto ad una sala di commiato su richiesta anche senza rito religioso. Per l'assegnazione dei loculi ci saranno i bandi pubblici. Sono solo alcune delle novità presentate oggi dopo 30 mesi di lavoro sulla materia. Sono già tutte avviate e rappresentano una tappa di civiltà fondamentale in un settore lasciato per troppo tempo nell'assenza di regole certe. Se si incontra qualcuno al cimitero, questo qualcuno, una persona identificata, appartenente a un soggetto selezionato, questo qualcuno mai e poi mai potrà riscuotere danaro. In estrema sintesi è un altro mondo rispetto al mondo che tutti noi oggi conosciamo. Sì, è veramente un lavoro immane di questi anni che abbiamo riepilogato. Legalità, trasparenza, evidenza pubblica, incasso di somme che prima non venivano introitate, risparmio per i cittadini, civiltà. Insomma, è una vera e propria rivoluzione fatta dai vivi pensando ai morti. Spesso quello è un luogo in cui la politica si girava dall'altra parte o conniveva e non aveva il coraggio, la voglia, la volontà di intaccare un sistema anche criminale. Oltre che profondamente immorale perché aveva a che fare con il momento di maggiore debolezza delle persone quando finisce una persona cara. Bene, noi l'abbiamo fatto e soprattutto questo porterà soldi nelle casse del comune e ridurrà le spese e le somme che i cittadini pagano e soprattutto si evita che si debbano rivolgere a qualcuno come piacere per ottenere quello che è un diritto. Quindi credo che sia effettivamente una vera e propria rivoluzione che la politica a Napoli nei cimiteri non aveva mai avuto.